Quando si dice che la Champions è un'altra storia, non è leggenda metropolitana, ma si ragiona anche diversamente, cioè dal punto di vista dell'impatto strategico, dovendo giocarla su 180 minuti almeno, qualcosa si cambia nell'impatto? Ma delle valutazioni si fanno, ad esempio è stata fatta quella di Osimè che invece di portarlo a rischiare di rifarsi male in maniera profonda, c'è anche la partita successiva. Poi è chiaro che le valutazioni vanno fatte tutte, per la forza della squadra, la l'abbiamo visto con il campionato, perché il Milan per noi ha giocato una grande partita e ha vinto un irritatamente, si fanno un po' di valutazioni, visto che questa è la competizione dei campioni, i campioni non si piangono addosso e trovano le soluzioni per giocarle contro chiunque. Noi siamo una squadra che ha tantissimi campioni. Poi ci sono le motività, il carattere che a volte possono spostare, ma per quanto mi riguarda ormai questa squadra qui la conosco molto bene e so che domani sera farà di tutto per essere un migliore del Milan. Partita difficile, noi non eravamo quelli più forti 15 giorni fa, non siamo quelli più deboli adesso. e si va a giocare una partita che può dire molto per il futuro di tutti noi, lo sappiamo bene e mi sono convinto che ci faremo a trovare.